Nen, super nen eccolo ma cazzo ma ci sta anche quello grande mamma sta crescendo ancora di più no, è la prima volta mamma no no, vabbè è la prima volta mamma dammi il telefono segnalo ah segnalo wow mamma wow ma ma sta avvicinando sta avvicinando ecco 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 Grazie a tutti.